Per un vero tipo, 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 tipo Terzi zi, su con le mani Ciao caro Altiorettini Con il simbolo della pace Vengo a comprati da quest'anno All'altecantino di tri Non mi hai nemmeno detto grazie Ma ti sei fermata, andiamo a parlare Tipi dell'India Hai più pensato a quel progetto Giosportale, non chiami Romagnola Facciamo proprio di tua mano Magari si è meglio Ma intanto mi fermo Non qui, tiriamo fuori tutti i tuoi cd Ho chiesto già che metterai sui top O no E ti volerò Spiegare il movimento Pensiero, sesso Buon sake come ti arrabbi la canna e la maga, tornando sospeso, due stelle nel cielo, ma qui, trovami un posto per riparola qui, in un cinto chiuso non ci sto, no, e con la destra, ma nemmeno con chi, che bestia, che bestia. Ciao, ciao, belle tettine, scusa non si parlo male, lo sai che io non sono fine, ma cavolo come mi viene, libero da un bicchiare, mi ero che te le catene. Come in India, hai più pensato a quel progetto di sportare, la piacchina ramagnola, la sera dormi da sola, magari sei meglio, ma in campo mi fermo qua qui, Dichiamo fuori tutti i tuoi cibi, ok so già che metterai sui dopo, oh no, e ti volerò, slega il movimento, forse so scopendo te, oh, uoco 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 te. Uoco te, oh, 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 uoco te, oh Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.